Ok amici, un attimo di tensione. Tenteremo oggi di superare il record mondiale benzina più economica del mondo. Attimi di tensione. Allora, lo faremo a... Il prezzo della benzina in Florida è 1,62$ a Manchester United. 80 cents anche alla prossima con lo sconto di contizzi. Lui di amici scoperti deve veramente fare il record oggi. Oggi 12 febbraio 2016. Siamo molto emozionati. Amici, guardia molto bellone. Siamo già a quattro dollari. 4 dollari, 7,8, 10, 5 dollari. Amici, ricordiamo che stiamo facendo la benzina a 0,9 cents. 0,9 dollari al gallone. 3,78 litri. Riusciamo a vedere se riusciremo a non superare la solida 10 dollari al pieno. Attimissimi, attimissimi veramente che non riusciamo neanche a spiegare. Siamo a 10 galloni. 9. E vai! 9 dollari! 9 dollari e 64 un pieno! Record mondiale, amici. Un attimo che abbiamo da fare delle sgoccioline. Ah, con le sgoccioline. Campioni, campioni del mondo! Campioni del mondo, amici! 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 Avrei voluto esultare di più, ma sono in una gas station pubblica. Non vorrei che mi scambiassimo per uno scemo. Amici! Sì! È stata dura. È stata dura, ma ce l'abbiamo fatta. 10 galloni e 8. All'incirca sono quasi 40 litri. Per 9 dollari e 78. Che sono 9 euro. Amici! Ce l'abbiamo fatta. Ce l'abbiamo fatta. Sì, vogliamo lo scontrino. Vogliamo immortalare nella storia questo attimo. Amici! 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 Va bene, allora per il momento è tutto. Ci vediamo la prossima volta da un altro inibriante video dalla Florida. Ciao!